SIGLA Qual è il problema, vecchio mio? Mi hanno incaricato di adattare un mio romanzo per il cinema, ma le parole si sono prosciugate. Mi serve un intervento divino. Mesdames et messieurs. Bonsoir. Stasera userò il mio prezioso dono mistico. Ci sono! Vorrei che tenesse una seduta spiritica a casa mia. Questo giovedì. C'è luna piena, sfruttiamone il potere. Perfetto. Ma, ma da marcati è una ciarlatana, l'hai detto tu stesso. Sarà di grande ispirazione per la mia sceneggiatura. C'è qualcuno che ci ascolta. Sei tu, Maya, e il mio spirito guida. Un tempo fu la balia di Tutankhamo. Spero che non stia ancora allattando. C'è qualcuno nell'aldilà a cui pensa spesso. Elvira, la sua ex moglie morta. Dovrò entrare in trance. Elvira? Ciao. Sei morta? Il fantasma della mia ex moglie è qui con noi in questo momento. Come puoi vedere, è lì accanto a te. Sei ubriaco? Chi è lei? È mia moglie. Sono io tua moglie. No, non più. Sa se lui può anche... toccarla. In tutta onestà, mi auguro di no. Non è un caso che tu non abbia pubblicato nulla dalla mia scomparsa. Ho finito la prima parte della sceneggiatura. Elvira mi ha aiutato. È pericolosa, Charles. Sei tu la donna che amo. Non ho la più pallida idea di come rimandarla indietro. Ora sei nei guai. Al vero amore. Al vero amore. Che non muore mai. Temo di aver commesso un errore. Sì, e non è la prima volta. È successo qualcosa. Lo sento nel mio chakra basale. Forse aria nella pancia.